Domenico Sammataro oggi qui a Mistretta, inizia anche la campagna di vaccinazione, lei è qui presente, nominata dal commissario straordinario per l'emergenza coronavirus qui in Preggio di Messina. Come mai la sua presenza qui e che cosa ci viene a dire? Siamo qui con grande emozione partendo come prima tappa da Mistretta per inaugurare finalmente la campagna di vaccinazione over 80. Il commissario ad acta, la dottoressa Maria Grazia Furnari, ha voluto fortemente una presenza fisica da parte dell'ufficio commissariale presso tutti i presidi. Infatti ha nominato alcuni referenti, di cui anche io, per la zona di Mistretta, Santa Caglia di Militello, poi in altri presidi andranno i colleghi, per parlare con i direttori, per parlare con chi è sul campo e per cercare di capire se ci sono carenze e risolverle in tempo reale come è abituato a fare il commissario ad acta. Dottore Sant'Angelo, quindi anche qui a Mistretta è iniziata la campagna vaccinale per gli over 80. Come ha risposto la cittadinanza e sono iniziate quindi le vaccinazioni? Sì, allora, le vaccinazioni sono già iniziate da oggi con gli over 80. La risposta è abbastanza numerosa, seria, diciamo, da parte della gente che ha accolto l'utilità della vaccinazione contro il Covid. Già abbiamo iniziato oggi con le prime vaccinazioni, già abbiamo sottoministrato più di 40 dosi, il numero di vaccini che era stato prenotato oggi, per cui stiamo andando ancora oltre perché faremo anche altre persone. Diciamo che nella campagna vaccinale anti-Covid nel distretto di Mistretta ci stiamo trovando molto bene, nel senso che abbiamo vaccinato già alcune categorie e fasce di popolazione in completezza. A breve saranno anche vaccinate le forze dell'ordine, gli ottantenni stanno partendo, per cui diciamo che forse accelerando i tempi rispetto a quello che è il calendario nazionale, forse sicuramente riusciremo ad anticipare questo. Poi se ci daranno la disponibilità di allargare le fasce, avendo finito già una fascia tipo degli ottantenni, di accelerare i tempi per vaccinare anche le altre fasce e andare avanti.